La spazzola tergicristallo Only One ha un unico attacco universale, valido per tutti i braccetti reggispazzola delle auto. Oltre ad assicurare semplicità di montaggio, garantisce la più elevata qualità tecnologica, resistente e affidabile, di lunga durata e di massima silenziosità. La spazzola Only One è utilizzabile con braccetti a gancio. Basta premere ai lati, sollevare contemporaneamente con un dito il coperchietto dell'attacco e far scorrere al suo interno il gancio fino a sentire il clac, poi richiudere il coperchietto. Con il braccetto a baionetta, invece, una volta sollevato il coperchietto, è sufficiente far scorrere il braccetto fino a fissarlo saldamente, subito dopo, basta chiudere. Per il braccetto Top Lock 1, il procedimento è molto semplice. Sollevato il coperchietto, è sufficiente poggiare la testa del braccetto sull'attacco e applicare una leggera pressione fino al clac. Per il braccetto Side Lock, invece, è necessario infilare nel foro dell'attacco il cilindretto del braccetto e ruotare fino all'avvenuto fissaggio.